Buona serata, nuova edizione del TV giornale di Telestense. Come sempre tra poco vi aggiorneremo su quello che riguarda i casi Covid della giornata, ma è un tema di cui si è parlato proprio oggi in Consiglio Comunale a Ferrara. Il sindaco Fabri ha dichiarato che da inizio settembre a Ferrara si sono registrati quasi 50.000 tamponi. Poi ancora oggi è stato il giorno in cui sono state presentate i restauri delle lapidi davanti alla chiesa di San Giuliano in memoria del professor Vullo e la Camera di Commercio invece ha comunicato che sono stati premiati persone, ditte aziende per quello che riguarda il premio della fedeità al lavoro, quest'anno in una edizione completamente diversa, ma vi racconteremo dettagli a riguardo. Come dicevo però cominciamo subito con gli aggiornamenti Covid perché sono 2025 i nuovi positivi in Emilia Romagna a fronte di 12.471 tamponi fatti, numero inferiore alla media come sempre viene nei fini di settimana. Si registrano purtroppo 8 morti e continuano a crescere anche i ricoverati. I casi di positività sono in leggero calo rispetto a ieri, ma mancano quelli della provincia di Ferrara che non li ha forniti per problemi informatici. Per questo oggi nella nostra provincia risulta soltanto un nuovo positivo. I dati saranno quindi inseriti nel conteggio di domani. Intanto oggi pomeriggio il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, ha aperto al Consiglio Comunale con una relazione alla situazione dell'emergenza sanitaria nel territorio inerente ai ricoveri di cittadini ferraresi e alla disponibilità di posti letto. Vediamo i dettagli. Dal 1 settembre all'8 novembre sono stati effettuati a Ferrara 49.937 tamponi, oltre 700 al giorno, di cui il 7,93% sono risultati positivi. Ad oggi i positivi sono 1.076. Di questi, 736 risultano asintomatici, ovvero il 68,4% e 340, il 31,6% sintomatici. Tra i sintomatici, il 75% è in isolamento domiciliare, 79 sono i ricoveri, 6 le persone in terapia intensiva, tutte a Sant'Anna di Cona. Sono i dati con i quali il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, ha aperto la seduta del Consiglio Comunale con una relazione sulla situazione dell'emergenza sanitaria nel territorio di Ferrara in relazione ai ricoveri cittadini ferraresi e alle disponibilità di posti letto. Per quanto concerne i posti letto, dai dati aggiornati, continua il sindaco, risulta che i letti di terapia intensiva disponibili siano 15 presso l'ospedale Sant'Anna di Cona, 10 all'ospedale del Delta, 8 all'ospedale di Cento. A Cona risultano ad oggi occupati 14 letto sui 15 già previsti, dei quali 6 sono occupati da pazienti ferraresi e gli altri da pazienti che arrivano da fuori comune o fuori provincia. I posti di terapia intensiva sono assegnati su base regionale. In caso di necessità, presso l'ospedale Sant'Anna di Cona, possono essere attivati altri 9 posti letto di terapia intensiva, trasformando per questa destinazione un reparto attualmente utilizzato per altri usi. Stessa cosa per gli ospedali del Delta e di Cento, che possono ampliare la disponibilità riconvertendo posti letto. Per quanto riguarda i posti letto per ricoveri non intensivi a Cona, ad oggi, continua il Sindaco, il numero totale dei ricoverati risulta di 79 pazienti, 54 dei quali ricoverati nell'ospedale di Cona, 16 al Delta di Lago Santo e 9 al Santissima Annunziata di Cento. La capacità massima attivabile al Sant'Anna risulta di 202 posti letto, mentre per gli ospedali del Delta di Cento la capacità massima è di 178 posti letto. Stiamo monitorando la situazione come conferenza territoriale sociosanitaria, detto il Sindaco che riunisce tutti i sindaci della provincia. Abbiamo dato una cadenza settimanale agli incontri con la conferenza territoriale sociosanitaria per monitorare lo scenario complessivo, uno scenario che, ha concluso il primo cittadino di Ferrara, come nella prima fase rispetto ad altre province, risulta essere sotto controllo. Avete visto dunque il Sindaco Alan Fabri che oggi è stato al centro anche di una minaccia arrivata via posta, esattamente una lettera con pesanti minacce arrivata questa mattina alla segreteria del Sindaco di Ferrara, Alan Fabri, indirizzata proprio al primo cittadino. Il testo porta come firma le nuove Brigate Rosse con simbolo in intestazione e contiene richieste rivolte al Governo minacciando attacchi. Del fatto è stata immediatamente informata la Questura, ora in possesso della lettera, mentre le verifiche sono in corso rispetto agli elementi emersi e citati. Questo appunto quanto comunicato direttamente dal Sindaco di Ferrara, dall'ufficio appunto della Comune di Ferrara. Intanto torniamo a occuparci ancora di Covid. Accanto all'affermazione del nulla sarà più come prima, nei mesi scorsi abbiamo sentito più volte affermare che questa pandemia va affrontata prima di tutto sul territorio. Ma nei mesi estivi che cosa è cambiato nel rapporto fra medici di famiglia e pazienti Covid? Lo vediamo nel servizio. Questo virus ci cambierà. Quante volte abbiamo sentito questa frase fra marzo e maggio come un auspicio per il futuro? Ma prima di tutto come l'impegno indicato a Chiara Lettere nel DPCM Relancio Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio, contenente le misure per rimettere in moto il Paese, l'impegno, dicevamo, a potenziare il nostro sistema sanitario, fortemente inadeguato, ad affrontare la situazione della pandemia da SARS-CoV-2. In primo piano, nei primi due articoli del DPCM, uno stanziamento importante non solo per aumentare le terapie intensive, strutture ospedaliere ad altissime tecnologie, ma per rendere efficiente prima di tutto la medicina del territorio, la più adatta a prendersi cura dei malati Covid, dai primi sintomi, quindi a domicilio. Se nella prima fase è stato quasi impossibile cogliere sul nascere l'infezione per la totale mancanza di conoscenze mirate, nella cosiddetta seconda ondata, le terapie efficaci per bloccare l'evoluzione della malattia non mancano. Come non sono mancati i tamponi in grado di segnalare positivi, asintomatici e sintomatici. Che cosa è mancato in questi mesi per evitare il secondo assalto dei pronto soccorso degli ospedali e il ricovero in terapia intensive? Prima di tutto è mancato il senso di responsabilità di tanti cittadini, assaliti da una gran voglia di tornare alla normalità senza più mascherine, distanziamento, divieti di assembramento seppur temporanei, percepiti come una violazione non più sopportabile alla libertà individuale. Un fatto che ha vanificato gli allarmi delle istituzioni ritardando nelle politiche di contenimento. Poi è mancata la riorganizzazione della medicina del territorio. Tra marzo e aprile ci è sembrato un miracolo che gli ospedali regessero l'assalto dei pazienti Covid, tant'è che abbiamo chiamato eroi, santi, materi e gli operatori che oggi non ne possono più e chiedono per resistere un nuovo lockdown generalizzato quando sarebbe stato ed è tuttora necessario per consentire agli ospedali di continuare a curare non solo i pazienti Covid ma tutti i malati che necessitano di strumenti diagnostici ad alta tecnologia e delle terapie più sofisticate attrezzare i medici di medicina generale delle risorse necessarie per farli intervenire senza esporsi a rischi inutili a domicilio dei pazienti Covid Pensiamo ad una dotazione costante di dispositivi adeguati di sicurezza individuale all'assunzione di neolaureati medici e infermieri retribuiti adeguatamente da mettere accanto ai medici di base come rinforzo per i nuovi compiti insieme a tirocinio guidato Pensiamo infine a corsi mirati di aggiornamento a raffica per tutti quei medici di famiglia che negli anni, loro malgrado, sono stati trasformati in burocrati della sanità E adesso passiamo alla cronaca perché ieri sera 8 novembre al termine di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti in zona GAD i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ferrara hanno proceduto al controllo nei pressi della stazione di un 23enne nigeriano in Italia senza fissa dimora il giovane seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 7 dosi di eroina e una dose di marihuana Ultimate le formalità l'extracomunitario è stato ristretto nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Ferrara in attesa del procedimento con rito direttissimo che si terrà domani mattina a 10 novembre presso il tribunale di Ferrara Anche quest'ultimo arresto dei carabinieri in zona GAD si inserisce in un contesto più ampio di controllo del centro cittadino che solo nella scorsa settimana ha portato a rilevare tra l'altro nove violazioni amministrative relative alla normativa sul contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ed in particolare sette sanzioni sono state elevate per mancato uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie tra italiani e quattro stranieri e due violazioni dell'isolamento fiduciario precauzionale in questo caso due nigeriani sempre in città ma non in area GAD altre otto contravvenzioni sono state elevate nei giorni scorsi a cittadini centroafricani che seppur in isolamento fiduciario in attesa del tampone si erano allontanati dal domicilio in violazione della vigente normativa di contenimento e adesso invece cambiamo argomento Anna Ferraresi consigliera del gruppo misto in comune a Ferrara chiede un tavolo di lavoro in commissione sulla problematica dell'abuso di sostanze psicotrope nei giovani del comune di Ferrara l'ultimo rapporto ufficiale diffuso dal ministero dell'interno dice la consigliera di opposizione colloca Ferrara terza in regione per decessi da overdose nonostante ciò la mia richiesta non è stata presa in considerazione spiega la consigliera Ferraresi che sentiamo in questo servizio Anna Ferraresi consigliera comunale gruppo misto parliamo un po' dei lavori che lei sta portando avanti dei progetti all'interno proprio del consiglio comunale di Ferrara vabbè a parte il lavoro sul territorio quindi l'attenzione è sempre presente sul territorio e sull'ambiente ma sto portando prevalentemente sto indirizzando prevalentemente sul disagio giovanile in particolar modo sull'utilizzo da parte dei giovani soprattutto dei minorenni sull'uso e l'abuso di sostanze psicotrope che sono molto frequenti abbiamo avuto anche recentemente questa notizia di questa ragazzina di 13 anni trovata ubriaca in pietro rostea oppure l'utilizzo appunto in soggetti sempre più giovani di queste sostanze psicotrope che vanno da sostanze chimiche sono le cosiddette le smart drugs oppure le designer drugs che sono sostanze chimiche che si possono trovare anche su internet alla cocaina all'eroina eccetera eccetera pertanto io ho ho fatto una question time inizialmente dove ho richiesto di fare un tavolo di lavoro o una commissione in cui si andasse ad affrontare questa tematica che è molto importante nei giovani siamo in un momento di pandemia quindi si è rilevato che soprattutto dopo il termine del primo lockdown c'è stato un abuso un abuso una percentuale di ragazzi che hanno utilizzato queste sostanze oltre il 60% rispetto il 2019 e quindi è un tema secondo me da affrontare non parliamo solamente di droghe nel termine letterale del termine ma anche di alcol perché anche l'alcol è una sostanza abusata dei giovani io ci tengo molto ad affrontare questa problematica e addirittura io avevo proposto per dare il buon esempio di una mozione una mozione per i test antidroga a tutti i consiglieri e alla giunta quindi assessori e anche al sindaco un test del tutto facoltativo peraltro una battaglia del centro-destra perché sia di Forte Italia che di Fratelli d'Italia che della Lega l'hanno l'hanno proposta in altri comuni so che ad esempio a Piacenza i consiglieri comunali gli assessori e il sindaco si sono sottoposti a questo test volontariamente poi fatto sorpresa quindi peraltro fatto benissimo così e hanno pubblicato i propri nomi con i risultati nel sito avevo proposto questa mozione e mi è stata negata e troncata sul nascere addirittura neanche portata in consiglio comunale proprio da discutere peraltro della facoltativa e sarebbe stato un ottimo motivo e anche un ottimo esempio da dare ai giovani e adesso parliamo del restauro delle lapidi della chiesa di San Giuliano in memoria del professor Vullo l'Alt associazione per la lotta a la talassemia di Ferrara in occasione del decimo anniversario della scomparsa del professor Rino Vullo pioniere degli studi e dell'assistenza ai pazienti colpiti da questa patologia nel nostro territorio ha promosso insieme all'arcidiocesi di Ferrara Comacchio e al comune di Ferrara il restauro delle tre lapidi sulla chiesa di Largo Castello vediamo l'alto rilievo in pietra distria che raffigura San Giuliano la formella in marmo di Carrara nella parete laterale e la lapide sempre in pietra bianca distria con l'epigrafe è il restauro delle lapidi della chiesa di San Giuliano detto l'ospitaliere in occasione del decimo anniversario della scomparsa del professor Rino Vullo medico e pioniere degli studi e dell'assistenza ai pazienti colpiti da talassemia l'importanza di una concentrazione internazionale su tutti i presidi più aggiornati per far sì che potessero avere una vita che lui diceva doveva essere normale tra virgolette nel senso che dovevano uscire dall'ospedale dove stavano ricoverati per settimane dovevano affrontare lo studio il lavoro come i loro coetanei sani e ci è riuscito ecco il presidente Valentino Orlandi che vorrei è lui il protagonista in realtà mi fa piacere che in questo punto a San Giuliano l'ospitaliere che rappresenta simbolicamente questi significati ci possa essere una targa che ricorda l'impegno dell'associazione e l'impegno di mio marito congiunti perché senza i genitori e senza i pazienti non avrebbe raggiunto quei risultati la chiesa di San Giuliano dove era già stato effettuato il recupero del portale dell'edificio a cura della Proloquo è un piccolo gioiello d'arte e fede nel cuore della città e dei ferraresi un luogo significativo nei pressi anche del castello in questa bellissima piazza opere che sono state restaurate questi due altri rilievi e la lapide sono opere certamente significative perché ricordano una sopra la facciata un episodio drammatico che è appunto l'uccisione dei propri genitori da parte di San Giuliano e l'altra la crocifissione il tema del crocifisso della croce è un tema importante della spiritualità ferrarese in tutte le chiese ci sono grandi croci è una delle caratteristiche proprio di una spiritualità che vede nella croce il segno della sofferenza ma anche della speranza quindi ci auguriamo che questa chiesa sia proprio un segno della sofferenza che è una realtà ma anche della speranza che è altrettanto un bisogno importante soprattutto in questo momento siamo all'ombra del Castello Estense siamo vicini a Piazza della Repubblica siamo in un contesto cittadino amato da tutti i ferraresi e oggi è una bella testimonianza di come l'associazionismo sia importante perché ha avviato questo recupero che speriamo sia diciamo solo anticipatore di un totale recupero di questa chiesa che è stata ed è tuttora come dire la chiesa dei giornalisti ferraresi ci auguriamo che quanto prima sia la piazza che la chiesa possono essere restituiti alla collettività sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista cittadino e ci spostiamo proprio di pochi metri perché la provincia ha deciso di dare il via ai lavori di pulizia dei prospetti e per estirpare la vegetazione infestante delle facciate del castello estense l'intervento che si svolgerà salvo rallentamenti dovuti alle condizioni meteo nell'arco di una decina di giorni ha un costo di 9.150 euro interamente finanziati dal bilancio provinciale e la ditta esecutrice dei lavori è il gruppo edilizia alternativa con sede a Roma e a Bologna la squadra dei tre tecnici dell'impresa specializzati in interventi di edilizia acrobatica eseguiranno l'intervento calandosi con delle funi dai quattro lati delle facciate esterne del castello più le torri senza l'impiego di impalcature la pulizia delle erbe infestanti si è resa necessaria per la tutela del monumento simbolo di Ferrara e l'incolumità di personale cittadini che a vario titolo fruiscono del castello estense la stessa ditta aveva eseguito un primo intervento sperimentale già nell'aprile dell'aprile del 2019 adesso invece parliamo di un settore economico dietro le quinte che sta subendo i forti contraccolpi delle restrizioni imposte dal governo in epoca covid è quello delle lavanderie industriali se i ristoranti e gli hotel sono obbligati a chiudere o ridurre l'attività le lavanderie a loro volta subiscono fortissimi cali di fatturato ce n'è una nel ferrarese che dagli anni 70 impiega una sessantina di dipendenti e che ha subito forti cali di fatturato nei mesi del covid questo e altro sarà il centro di CNA News che torna questa sera su tele estense ma prima sentiamo un estratto le lavanderie industriali sono colpite dalla chiusura che il governo ha imposto agli alberghi e ristoranti in maniera direttamente proporzionale in quanto il nostro settore ovvero le lavanderie industriali forniscono la biancheria incomodato d'uso quindi la biancheria è proprietà della lavanderia agli alberghi e ristoranti quindi con un calo e la chiusura degli alberghi e dei ristoranti e quindi in questo caso specialmente dei ristoranti se ne deduce che anche il nostro settore è direttamente proporzionale il calo del fatturato quindi il fatturato si aggira a una perdita all'incirca del 40% a ottobre ancora prima dell'entrata del nuovo DPCM noi chiediamo al governo di poter rientrare nel codice Ateco delle aziende e delle imprese che hanno subito una perdita e quindi che sono state costrette non a chiudere perché noi non chiudiamo perché abbiamo comunque una parte di lavoro che rimane però abbiamo delle perdite in genti dovute alla chiusura dei ristoranti e degli alberghi come le dicevo un 40% a ottobre ma con la chiusura forzata dei ristoranti e degli alberghi questa perdita purtroppo dovrà aumentare di parecchio come è successo ad aprile a marzo che avevamo un calo del fatturato del 70-80% la crisi non è recuperabile perché chi non è uscito nei giorni diciamo così di chiusura certamente non esce due volte il giorno successivo quando ci sarà di nuovo la riapertura quello che è perso il fatturato perso è andato perso questa dunque è un'anticipazione di CNA News che vi ricordo va in onda ogni lunedì alle 19.55 sempre a lunedì immancabile alle 21 l'appuntamento col calcio e con lunedì sport con questo è veramente tutto prima di chiudere vi ricordo il nostro sito telestense.it e i nostri canali social Telestense la trovate su Facebook Twitter Youtube e Instagram grazie dunque per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata Grazie a tutti